Per gli editori che vogliono entrare nel mercato mobile in maniera efficiente ed efficace, chiaramente noi stiamo spingendo la nostra soluzione come canale di uscita. Quindi non solo noi metteremo queste applicazioni su App World, delle varie piattaforme, però metteremo anche a disposizione la nostra piattaforma per gli editori, se sono interessati, come un meccanismo diverso, alternativo a quello che attualmente è basato tipicamente su siti mobili. Chiaro che poi rimane un problema organizzativo a monte per l'organizzazione e la strutturazione di quelle informazioni da spingere in modalità mobile.